Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi è il Dante Dì, ovvero il giorno dedicato al sommo poeta Dante Alighieri, a cui quasi tutti noi italiani siamo molto affezionati fin dai tempi del liceo. Qui con me ho la Divina Commedia, l'edizione integrale della Divina Commedia, su cui ho studiato durante gli anni del liceo. E se sfoglio trovo anche i miei appunti del liceo. Perché proprio oggi 25 marzo festeggiamo Dante Alighieri? Perché molti studiosi concordano sul fatto che il 25 marzo sia la data di inizio del viaggio di Dante all'Inferno. In questo breve video voglio condividere con voi alcune curiosità sul poeta e sulla commedia, che forse non conoscete. Vediamole. Tutti sappiamo che la donna amata da Dante è Beatrice. Però il poeta aveva una moglie che si chiamava Gemma Donati, sposata intorno al 1285, da cui ha avuto sicuramente tre figli, Pietro, Jacopo e Antonia, quest'ultima diventa suora con il nome di Beatrice, e forse altri due figli, Giovanni e Gabriello. Dante era del segno dei gemelli, come lui stesso ci fa notare nel 22esimo canto del Paradiso. Molti studiosi hanno supposto che Dante soffrisse di epilessia. Gli episodi di svenimento che Dante racconta nella commedia sarebbero proprio ispirati alla sua condizione. Sembrerebbe che lui descriva proprio i sintomi dell'epilessia. Secondo dei manoscritti antichi, il titolo originale della Divina Commedia era Commedia, alternato alla forma Comedia, con una M sola. Il titolo, La Divina Commedia, si attesta solo a partire dalle edizioni settecentesche dell'opera. Sapete qual è il sostantivo più frequente della Commedia? Provate a indovinare? Occhio. Occhio è il sostantivo più frequente nella Divina Commedia. L'occhio non è solamente una parte fondamentale del corpo umano, su cui Dante fa affidamento per tutto il suo viaggio. Ci dice infatti di vedere quello che racconta. L'occhio diventa anche il simbolo della visione, del resto tutta l'esperienza raccontata nell'opera è una visione. Le tre cantiche terminano tutte con il sostantivo stelle. Perché? Perché le stelle simboleggiano la meta del viaggio di Dante. Arrivare al cielo, quindi alla rettitudine morale. Vediamo l'ultima curiosità. Non posso non menzionare una curiosità legata alla lingua di Dante. Diciamo sempre che Dante è il padre della lingua italiana. Ma perché? Perché otto parole su dieci di quelle che Dante utilizza nella Commedia sono arrivate fino a noi. Noi italiani oggi usiamo circa l'ottanta per cento della lingua che era usata ai tempi di Dante. A rivelarcelo è stato il linguista Tullio De Mauro, a capo del progetto per la redazione del grande dizionario italiano dell'uso. Per festeggiare questa giornata vi invito a scoprire qualcosa in più sulla Commedia, magari a leggerne una parte, anche solo l'incipit. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ah, un'ultima cosa. La locuzione Il bel paese, per riferirsi all'Italia, è stata coniata da Dante. La ritroviamo nel trentatreesimo canto dell'Inferno. Del bel paese laddove il sì suona. Il bel paese dove il sì risuona. L'Italia dove si parla la lingua italiana. Grazie mille per aver guardato questo video. Fatemi sapere se avete mai studiato a scuola la Commedia oppure qualche altra opera di Dante. Grazie ancora e noi ci vediamo nella prossima lezione. A presto, ciao!